qui siamo alla... come si chiama? la casa smerata quindi forse... spiaga, plaga o... ma si chiama? smerata abbiamo appena finito di mangiare lì dentro ovviamente sono venuto con le scarpe, sono venuto in ciabatta e niente, abbiamo venuto lì e... e poi dopo, poi prima un bel giro di spiaggia in alto buon bijou giornata mattinata 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 finita in scioltezza alle 15.21 ora locale salutiamo il piccione e... basta tutto questo balla un gran spiaggia acqua calda e... ci sono... windsurfisti forse non lo so ora qui si pedala balla balla non lo so non lo so non lo so